ebbene sì a distanza di anni una nuova puntata delle sigle storpiate perché lo spunto viene da una scoperta di questi giorni in quasi mezzo secolo di vita ho sempre cantato in modo sbagliato la sigla della maga sally ecco io capivo sally ma che fa sally invece era sally maghetta sally voi lo sapevate tutti vero beh io no di qui lo spunto ci saranno ancora cose universalmente storpiate che non sono state celebrate nei sei video precedenti magari una che possa raggiungere i livelli di quella che io ritengo la storpiatura più fenomenale di tutte le puntate ossia la giraffa che dio strafulmini grazie sarina anzi papà di sarina non so se stai seguendo ancora il canale ma grazie vabbè andiamo avanti tra le altre storpiature che condivido con alcuni di voi fantaman sì anch'io capivo mele e pere son con lui conscio che il dottor stil non fosse claudiano l'ortolano ma non capivo proprio una mazza e avere trovato un'altra persona che in effetti ha capito le stesse cose mi ha fatto sentire meno solo dai palesemente dice mele pere dai accettiamolo e via ma adesso apriamo il capitolo haidi con una storpiatura che è tornata spessissimo anche in questi giorni un dubbio che però in questo caso io non ho mai avuto perché evidentemente era un bambino genio allora non parlo tanto del mistero della seconda strofa davvero non sapevate che il tuo nido è sui monti e ti sorridono i monti erano giuste entrambe anzi questi meme li trovate sul mio profilo instagram se volete iscrivetevi che io sono solo contento no il problema di haidi è legato alla celeberrima parola elisabetta viviani ha detto semplicemente accipicchia a me sembrava normalissimo ma per molti accipicchia denotava una vita di violenze sopprosi per la povera montanara con la cuperosa dall'altalena legata allo sputnik veneratrice di panini ammuffiti in perenne lotta contro l'intolleranza al lattosio per un'alimentazione a base di formaggio fuso e sostenitrice del cibo a chilometri zero ma se per molti accipicchia era un'espressione di sorpresa e dolore ci picchia per qualcuno c'è una rivisitazione fantasiosa dove picchia è il diminutivo di haidi nel senso di picchiata in testa immagino per altri poi una ricostruzione filosofica dove a picchiare haidi sarebbe stato peter che non potendo sopportare che l'amica se ne andasse dai monti cantando lo hacker che bontà ha preferito corcarla di mazzate perché lasci un posto fantastico talmente fantastico che se te ne vai ti pesto poi vabbè si arriva all'assurdo più totale visto che non è raro trovare personaggi di altri anime nelle varie serie perché non ipotizzare che archi picchia sia il nome di un altro personaggio buttando dentro cose a caso che poi archi potrebbe essere questo picchia chi vdv pecker e vabbè e stop se volete altri video come questo beh dipende da voi dalle vostre orecchie dei vostri ricordi se vi va fatevi un giro sugli altri video se vi viene in mente qualcosa che non è stato citato beh condividetelo con tutti noi e ricopritevi di ridicolo grazie non sono io grazie 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 grazie